Gentili telespettatori, buona giornata. I grillini cominciano a dividersi tra chi sta con Conte e chi sta con Grillo. Attenzione, non stiamo parlando di idee, ideologie e cose simili, stiamo parlando di convenienza economica. C'è chi punta su Conte e chi punta su Grillo. Perché? Questi grillini di cui stiamo parlando sono tutti a fine carriera politica, sono a fine del secondo mandato e così non hanno la possibilità di essere rieletti nel movimento. C'è la clausola del secondo mandato voluto da Grillo. Grillo dice vedremo gli iscritti cosa dicono, Conte vorrebbe cancellarla, ma Conte probabilmente non farà più il capo politico dei 5 Stelle e aprirà un suo partito. E così i grillini stanno pensando è meglio fare il fans di Grillo che magari cambia lo statuto, oppure fare il fans di Conte così magari mi porta nel suo partito, ci ho assicurato la prossima legislatura, altri 5 anni di stipendio. E così cominciano i giochi economici. In politica parliamo sempre e spesso di stipendi. Quello a cui interessano i politici dopo essere eletti è solo ed esclusivamente a come essere rieletti ancora. Questo dal primo giorno di politica e il primo giorno di legislatura già stanno pensando solo ed esclusivamente a come far continuare il proprio stipendio. E così si dividono Toninelli Ruocco con Grillo, Bonafede Patuanelli con Conte, Di Maio e Fico terzisti. Di Maio e Fico stanno ad aspettare. Vediamo da quale parte conviene stare. Non prendono posizione. Chi sta con chi? Cioè tra gli esponenti più noti del Movimento 5 Stelle come si schiereranno i famosi, abbiamo sempre detto, i big qualcuno li chiama, quelli che per un modo o per l'altro, spesso per averci fatto ridere con dichiarazioni incredibili, no? Sono diventati famosi, diciamo così, ecco. Quindi famosi non per essersi distinti dagli altri per eccelse doti politiche, economiche, no. Di solito quelli diventati famosi nel Movimento 5 Stelle perché ci hanno fatto ridere per qualche cosa che hanno detto, pensato. Ma chi sta dalla parte del nuovo capo in pectore, ammesso che sia il capo, Conte? Chi invece non abbandona il fondatore garante? Potranno sembrare domande un po' curiose, ma serviranno a misurare i rapporti di forza. Sono indicazioni di massima da tener conto da un lato di una situazione in evoluzione e dall'altro di variabili anche personali che possono determinare scelte oggi non prevedibili e variabili anche personali, cioè la ricerca dello stipendio. Il Movimento 5 Stelle oggi ha 237 parlamentari perché gli altri sono andati al gruppo misto, cioè se ne sono andati sono stati cacciati. Ci sono 162 deputati e 75 senatori. Diciamo che ci ho premesso schematicamente se ne attribuiscono a Grillo i deputati, cioè i deputati starebbero con Grillo e i senatori con Conte, dicono così. In base al fatto che a Palazzo Madama la maggioranza è già al secondo mandato e spera che l'ex premier riesca a trovare il modo di bypassare il divieto di una terza elezione, fermanemente difesa dal fondatore. Con Grillo ci sono sicuramente alcuni volti storici del Movimento. È il caso di Carla Ruocco, oppure Danilo Toninelli, l'indimenticabile ministro delle infrastrutture del primo governo guidato da Conte, quello che afferma ancora oggi di essere stato il miglior ministro italiano della storia della Repubblica. Lui che lavorava 12 ore al giorno, ma senza concludere niente. Con il garante sono schierati anche l'ex ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, il capogruppo alla Camera Davide Crippa e il deputato, nonché sottosegretario alla difesa, nei governi Conte 1 e Conte 2, Angelo Tofalo. Con loro quasi tutti i deputati alla prima esperienza parlamentare, fedeli ad una delle regole fondamentali del 5 Stelle. Ovviamente buttano fuori gli altri, loro hanno ancora un mandato da spendere, pertanto sono fedeli. Poi quando saranno alla fine del secondo mandato non saranno più fedeli. Ebbè, questione di stipendi. Ci sono pochi posti comunque che rimarranno disponibili per il combinato disposto del calo dei consensi e del taglio dei parlamentari. Molti non hanno più chance di essere rieletti. Con Giuseppe Conte invece ci sono gran parte dei senatori. C'è il ministro delle politiche agricole Patuanelli, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, il capogruppo a Palazzo Madama Ettore Liccheri, ma sta sicuramente con Conte anche l'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Più che per coerenza è perché Bonafede è amico di Conte, era il suo assistente alla cattedra all'università, quindi lo conosce da tempo e sta con Conte. Una garanzia per il futuro se si fonda un partito, Conte fa diventare parlamentare o senatore Bonafede per sempre. Poi ci sono quelli non allineati, quelli che adesso non prendono posizione e stanno a vedere da che parte poi schierarsi in futuro, come Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico. Tra loro coloro che sono sospesi, nel giudizio anche Stefano Buffagni, ora deputato e in precedenza vice ministro allo sviluppo economico, nel secondo governo Conte. Conte? Beh, insomma, una sorta di attesa per lo stipendio. Vi ricordate c'era il film Fuga per la vittoria? Questo è attesa per lo stipendio. Ce la faranno gli eroi grillini a avere un altro contratto, a fare un'altra legislatura? Chi lo sa? Questo è il loro pensiero fisso quando si alzano, l'ultimo pensiero prima di dormire. Che farò fra un po'? Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, sempre qui sul canale Teleitalia. C'è anche, ricordatevi, Teleitalia seconda rete. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie. Grazie.